A Piazza Italia stamattina si tinne dei vigili del fuoco e dei poliziotti scesi in piazza contro le scelte del governo. Un governo che ha già deciso. L'obiettivo è innalzare l'età pensionabile dei poliziotti e degli appartenenti alle forze dell'ordine in genere. Noi diciamo che questa è una scelta sbagliata, ragioneristica, che non guarda l'efficienza alla reale sicurezza. Noi crediamo che un poliziotto su una volante, quando ha un'età superiore ai 55 anni, sicuramente non si troverà nelle stesse condizioni di un giovane di 30 o 40 anni. Andare a rincorrere un malvivente, fermare per strada sicuramente persone che non hanno buone intenzioni e che nello stesso tempo cercano sicuramente di avere la meglio. Su noi poliziotti, che già a una certa età possiamo sicuramente opporci, a quell'età diventa un po' più difficile. A livello previdenziale invece? Crediamo che le forze di polizia non possano andare in pensione con gli stessi anni di servizio e con un'età pensionabile simile a quella del pubblico impiego. Il governo cambia idea su questo punto. È stato anche convocato dal ministro Fornero un tavolo di confronto dopo le nostre rivendicazioni. Noi come Silpi Cigelli, SIAP, COISP, Associazione Nazionale Funzionale, rappresentiamo senza ombra di dubbio la punta più avanzata delle rivendicazioni per i colleghi della Polizia di Stato. Noi non possiamo fare altro a livello provinciale che dare supporto e far capire che la Polizia è dunque l'innestimo governo che ci prende in giro. Ormai siamo abituati ai cambi di governo, però il risultato è sempre quello. Grazie. Grazie. Grazie.